Impugnerà la legge sulla autonomia differenziata? Deve ancora diventare legge, nel senso che appena sarà promulgata evidentemente il Consiglio regionale ne discuterà, di certo non mi iscrivo al PD, ho detto pubblicamente quello che nelle riunioni di partito avevo sempre affermato, l'ho detto pubblicamente assumendo la responsabilità del mio ruolo di dirigente nazionale, l'ho detto sempre in assoluta coerenza perché vi invito a vedere anche i resoconti della conferenza delle regioni, quando per la prima volta si è discusso l'autonomia differenziata, anche in quell'occasione io dissi di non avere pregiudizi verso l'autonomia differenziata a condizione che si superasse la spesa storica, anche in quell'occasione in sostanza dissi quello che ho sempre ripetuto, domani non parti. Ma intanto ieri Salvini ha detto che lei avrebbe dovuto esprimere la sua contrarietà all'autonomia differenziata prima che la legge passasse. E che ne sa Salvini che io non l'abbia fatto nei luoghi dove si decideva per esempio nel mio partito?